Ivano Russo, responsabile del Ministero dei Trasporti. Senta Russo, distò un po' scalpore tempo addietro, quando ci fu la notizia che la via della Seta veniva gestita dai porti ancellari, da Trieste e da Genova. Poi qualcuno mi ha detto invece che erano i cinesi che sceglievano i porti e ora pare invece che ci sia un po' un allargamento. No, questo è un discorso un po' surreale in verità perché quando noi siamo stati a Pechino ma anche nelle interlocuzioni che abbiamo con i grandi operatori cinesi a partire dalle shipping line e dalla shipping line di riferimento, ovviamente l'interesse loro è per avvicinarsi il più possibile alla cimentaria di riferimento quindi all'Europa centrale e all'Europa centro-orientale. E' chiaro che da sempre, da quando è nato lo shipping, non da oggi, la nave è il vettore più economico di trasporto e quindi l'utilità per loro si accresce quanto più vicino possibile a questi mercati riescono ad arrivare. I porti che sono stati individuati nel corso di questi confronti sono i porti ascellari perché appunto sono i più vicini non singolarmente ma come sistemi, quindi tutto il sistema dell'alto tirrenico e dei porti liguri e il sistema dell'alto triatico dall'altra parte con Ravenna, Venezia e Trieste che hanno alle spalle i corridoi, sia il Genova-Rotterdam particolarmente importante, il Terzo Valico sia dall'altra parte il corridoio mediterraneo e quello scandinamo mediterraneo, il Brennero, il Gottardo e quindi sono sistemi molto molto performanti perché ovviamente si trovano a ridosso delle aree di destinazione finale delle merci. Questo è tutto, non è che c'è una scelta politica di quali siano i porti candidabili a far arrivare le navi cinesi a cui dovremmo noi imporre dove andare, c'è una visione abbastanza singolare. No, Russo, c'è un rilancio della strada ferrata, di questa cura del ferro anche dalla Cina ma c'è un ritorno? Noi dobbiamo essere pronti con il nostro sistema ferroviario a fare in modo che i collegamenti di Ultimo Miglio possano rapidamente decongestionare i porti in modo tale che i nostri porti possano accogliere il più merce possibile e poi i nostri collegamenti di Ultimo Miglio devono innestarsi sulla rete nazionale e sulle reti TNT, i cosiddetti corridoi. Questo è il progetto al quale l'Italia lavora, questo è l'impegno, io ho l'obiettivo sul quale siamo tutti fortemente impegnati anche nei cronoprogrammi, nel rispetto delle opere e poi ci saranno mille altri collegamenti ferroviari dalla Cina con tanti altri paesi europei, noi ovviamente competeremo per una parte sulla via della seta marittima con i porti appunto nord di Tirreno e nord atriatico, per l'altra con i collegamenti di Ultimo Miglio ferroviario, questo è lo scenario.